E' un cane furbo. Io mi raccorgo quando scappa perché ha fatto qualcosa di male e si nasconde dei gicespugli. Purtroppo non lo tengo in casa, ma nel mio paese, dove vado ogni domenica. Ma c'è papà che quando torna dal lavoro lo va a trovare e gli dà qualcosa da mangiare, tipo il latte, il mangime e a volte anche le vitamine. Esso non sopporta di restare una notte da solo e perciò va a farsi qualche giro per il paese. A me piace particolarmente la faccia del berichino, ma non solo a me, anche a tutti quelli che lo vedono passare. Ha un muso lungo, con degli occhi bellissimi, una bocca grandissima, ma ha delle labbra fine e fine. Io ci gioco sempre e mi diverto un mondo. In mezzo alla neve non si riconosce perché si mimetizza. Lui si diverte tantissimo quando nevica perché si rotola e fa tante altre cose. Io non l'ho mai visto con la coda tra le gambe, a parte quando si fa il bagno e quando sente gli spari. È sempre molto allegro e vivace. Esso, dentro la macchina, si rilassa e a volte si anche addormenta. E l'unico modo per risvegliarlo è accendere la radio ad alto volume. Io un cane lo desideravo da tempo e per fortuna ora lo ho. Ed anche bello come proprio lo desideravo. Grazie a tutti.